Corte d'appello rischio soppressione concreta l'ipotesi di taglio dell'istituzione giudiziaria molisana e le associazioni professionali in campo per difendere l'organo giurisdizionale ma anche l'autonomia regionale hanno detto. Precari scuola, ricorsi accolti, risarcimento per docente e personale ATA e reiterati i contratti di lavoro a termine sono illegittimi hanno detto i giudici di Sernia e Larino accogliendo i ricorsi dell'avvocato Vincenzo Iacomino. Allarme e criminalità, molise a rischio infiltrazioni malavitose, lo ha ribadito la CGL in un incontro a Campobasso rilanciando la necessità di azioni forti dell'istituzione e degli imprenditori. Cantine divine, successo di pubblico, a Guardiareggia continua fino alla mezzanotte l'appuntamento 2015 con la manifestazione enogastronomica che valorizza vino e prodotti tipici. Edizione della domenica del nostro telegiornale, ben trovati in apertura. Torniamo a parlare di allarme giustizia in Molise con il rischio di soppressione della Corte d'Appello che si fa sempre più concreto. Enzo Di Gaetano. Nicandro Buccieri, segretario regionale del sindacato italiano specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, fa proprio l'allarme lanciato dal presidente Enzo Di Giacomo dell'Associazione Nazionale Magistrati ed invita gli ordini professionali, gli albi e tutte le categorie del lavoro e in particolare quelle rappresentate nell'albo dei consulenti e dei periti dei tribunali di Campobasso e Isernia, ad organizzare un incontro per dare sostegno alla NM del Molise e far giungere così un forte no alla soppressione della Corte d'Appello di Campobasso. Ritornano a farsi insistenti le voci sulla possibile chiusura della Corte d'Appello, già circolate lo scorso anno e oggi nuovamente tornate con forza negli ambienti giudiziari, ma con poco risalto in quelli politici e professionali, sostiene Nico Buccieri, che spiega. La NM Molise, con il suo presidente Enzo Di Giacomo, ha notizia che la Commissione Ministeriale competente nel propendere in favore del principio del mantenimento di una Corte d'Appello per ogni regione, indende però subordinare detto principio al raggiungimento di una certa soglia numerica degli abitanti e il Molise sarebbe al di sotto di detta soglia l'ennesimo ingubo per la nostra regione, anche perché comporterebbe lo smembramento di altri uffici giudiziari, come Procura Generale, Tribunale di Sorveglianza, Tribunale e Procura per i minorenni, Procura di Strettano e Antimafia, Tribunale del Riesame, con gravi ricadute sul piano della legalità e sui costi economici a danno dei cittadini e degli operatori della giustizia. Inoltre la riduzione dell'efficienza del sistema giudiziario in Molise impilicherebbe anche la riduzione delle forze dell'ordine e quindi una minore difesa del territorio. Il trasferimento non soltanto degli uffici materiali ma di tutta l'utenza della regione avrebbe conseguenze disastrose e un indubbio notevole aggravio di spesa a carico dei cittadini molisani con pesanti ricadute sul tessuto economico e sociale. Dopo le pesanti penalizzazioni già avute per il piano di rientro sanitario e per l'assenza di un'esplicita deroga per il Molise per il DEA di secondo livello per avere meno di 600.000 abitanti, deroga però avuta in Basilicata, arriva questa nuova doccia fredda, essendo sopprimibili le corti d'appello in assenza di un milione di abitanti. L'eventuale chiusura della corte d'appello di Campobasso rappresenterebbe così un ulteriore dato d'allarme nell'ottica della sopravvivenza dell'ente regione in quanto tale. Ma al di là di questo si tratterebbe di una sconfitta politica e di una grave perdita per l'intero Molise. Non possiamo accettare, conclude Nico Buccieri, che il governo centrale sia tanto ostile al popolo molisano, ogni volta che dimentica la specificità della ventesima regione, ovvero la bassissima densità della popolazione. Le istituzioni regionali, le forze politiche e le categorie professionali dovrebbero essere attenti e vigili, pronte ad ogni forma di azione a sostegno della lotta interpresa dall'ANM e dal presidente Enzo Di Giacomo. Cambiamo argomento. I tribunali di Larino e di Serni hanno accolto alcuni ricorsi presentati dai docenti e dal personale ATA, i precari della scuola. I lavoratori assistiti dall'avvocato Vincenzo Iacovino hanno ottenuto il risarcimento del danno e la progressione economica e stipendiale. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Sull'utilizzo dei precari della scuola, la Corte di Giustizia europea si era pronunciata il 26 novembre dello scorso anno, condannando l'Italia per la reiterazione abusiva dei contratti a termine. Sulla scorta di questo importante pronunciamento, molti docenti e lavoratori ATA, assistiti dall'avvocato Vincenzo Iacovino, hanno presentato ricorso e i giudici dei tribunali di Larino e Isernia, hanno dato loro ragione accogliendo le loro istanze. I tribunali hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per l'illegittimo ricorso al contratto a termine, oltre alla progressione economica e stipendiale, ha commentato soddisfatto Iacovino. In sostanza, i giudici hanno aderito alle considerazioni della Corte di Giustizia europea e della Suprema Corte, ha aggiunto l'avvocato, e dopo aver accertato il ricorso abusivo della pubblica amministrazione al contratto a termine, hanno superato il quadro normativo nazionale, definito trappola della precarietà, ed hanno riconosciuto ai ricorrenti cospicue somme a titolo di risarcimento danni per la disparità di trattamento perpetrata dalla pubblica amministrazione rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Si tratta del cosiddetto danno comunitario, ha spiegato l'avvocato, il cui risarcimento è configurabile quale sanzione a carico del datore di lavoro. Per Iacovino le decisioni dei giudici dei Tribunali del Lavoro di Larino e Isernia sono sentenze giuste, coraggiose e di alto profilo giuridico. Sono ricorsi alla normativa sovranazionale, dandone diretta ed immediata interpretazione d'applicazione nello Stato italiano, riconoscendo diritti altrimenti preclusi alle migliaia di precari della scuola. Ha concluso Iacovino, una vittoria che ridà dunque speranza a centinaia di docenti e dipendenti ATA che da anni vivono nell'incertezza e senza un futuro lavorativo garantito. Oltre 200 firme sono state raccolte dal WWF Molise e saranno presentate al governo italiano perché si presenti alla conferenza mondiale sul clima COP21 che si svolgerà a Parigi dal 30 novembre all'11 dicembre con proposte concrete a favore dell'ambiente. I cittadini che hanno firmato la petizione chiedono di ottenere la riduzione dell'energia prodotta dalle centrali a carbone ancora presenti sul territorio italiano. Il carbone, dicono dal WWF, è il combustibile fossile più inquinante e pericoloso. I responsabili della centrale a biomasse di Montenero di Bisaccia, restiamo in qualche modo in tema, rispondono alle accuse rivolte dai consiglieri comunali Dascane e Bozzelli in un affollatissimo incontro. Hanno tranquillizzato la popolazione. Sentiamo Manuela Iorio. La centrale a biomasse di Montenero di Bisaccia, al centro di un incontro che si è tenuto in sala consigliare. Questa volta è stata la proprietà dell'azienda che si trova incontrata Cannivieri a dire la sua e a difendersi, dopo le recenti accuse di pericolosità arrivate dai consiglieri di opposizione Dascane e Bozzelli, che avevano chiesto al sindaco la chiusura dell'impianto in seguito agli ultimi controlli dell'ARPA, che avevano rilevato irregolarità nelle emissioni. Un incontro affollatissimo, a cui hanno preso parte molti cittadini, segno che l'argomento biomasse sta molto a cuore ai monteneresi, non solo per questioni di salute, ma anche perché la società agricola e il quadrifoglio dà lavoro a parecchie persone, tra dipendenti diretti, ha indotto. I responsabili dell'azienda hanno cercato di tranquillizzare la popolazione, allontanando dubbi e possibili accostamenti tra la centrale e l'incidenza di tumori nella zona. Il tutto nasce da accuse infondate e si basano su un rapporto dell'ARPA, che è un rapporto dell'ARPA fatto in un determinato momento in cui la centrale non stava funzionando correttamente. A fronte di questo unico dato di 15 anni di storia e di, come il collega ha mostrato, di dati certificati, l'unico dato che è andato fuori soglia in questo contesto sono quelli delle polveri totali. Possiamo capire la strumentalizzazione, ma è un dato asettico della singola circostanza perché nell'impianto vengono bruciate biomasse. Noi abbiamo voluto ribadire il concetto, anzi la verità, non il concetto, la verità. Non parliamo di inceneritori, non parliamo di termovalidizzazione, parliamo di una centrale a biomassa che brucia il cippato di legno ai suoi derivati. Claudio Spinozzi ha poi spiegato come in realtà all'interno stesso dell'azienda controllino quotidianamente le emissioni con un rilevatore in loro possesso e come periodicamente venga chiamato un laboratorio esterno. In tanti anni di esercizio mai nessuna rilevazione era risultata oltre i limiti consentiti. Spinozzi ha poi spiegato come il gruppo di aziende che fa capo all'imprenditore Sparbieri sia oggetto di continui controlli. Il gruppo di per sé, al di là dell'azienda agricola, è soggetto periodicamente, ciclicamente dalla Guardia di Finanza, dall'ARPA nel settore agricolo, dai noi nel settore agricolo, dalla Dogana per le importazioni e le esportazioni, dall'Agenzia delle Entrate. È un gruppo che è presente sul territorio da 25 anni. Non è un gruppo che ciclicamente ha cambiato ragione sociale. La Lina è presente qui da 27 anni. Continua ad essere presente e speriamo che lo sarà ancora nel tempo. La cronaca adesso furtano i negozi di fiori in via Monsignor Bologna di Campobasso di 400 euro il bottino dei ladri. Il fatto ieri sera, poco dopo le 20, un giovane che si è finto cliente ha approfittato del fatto che il titolare dell'esercizio di Ghebana si è recato nel retro bottega, riuscendo a rubare dalla cassa le banconote. All'esterno del negozio c'era un complice. I due poi sono fuggiti a piedi verso il centro della città. Subito dopo la denuncia del titolare del negozio sono scattate le indagini. Grazie alle immagini di alcune telecamere di sorveglianza, gli agenti della polizia di Campobasso sono riusciti ad individuare gli autori del furto. I sindaci invece dei comuni di Petrella-Tifernina, Lucito, Montagano, Matrice, Campolieto, Castelbottaccio e Castellino del Biferno, preoccupati per i furti che sono avvenuti negli ultimi giorni nei rispettivi paesi, hanno chiesto al questore di Campobasso, Raffaele Pagano, un incontro. Il questore che riceverà i sindaci a metà della prossima settimana ha comunque assicurato una intensificazione dei servizi di controllo. Il territorio è sempre più minacciato dalla criminalità organizzata, pronta a mettere su anche in Molise attività illecite particolarmente redditizie. Se ne è parlato in un incontro organizzato dalla CGL. La criminalità organizzata sta spostando la sua attenzione anche sul territorio molisano, un vero e proprio business ai danni dell'ambiente e della salute dei cittadini, una situazione che sta assumendo aspetti preoccupanti al pari di altre regioni italiane. Se ne è discusso in un incontro organizzato a Campobasso dalla CGL. Il Molise, come tutte le regioni d'Italia, vive forti criticità. Le elenco molto brevemente. Abbiamo una fragilità politico-istituzionale, è una regione di relativamente recente costituzione, ma ha avuto grandi problemi. Penso all'annullamento in un paio di occasioni delle elezioni regionali. Penso anche a, da un punto di vista politico, frequenti cambi di casacca che vedono utilizzi di partito piuttosto che mettersi al servizio di partito, in alcuni casi. Abbiamo poi problemi legati al territorio, perché vive logisticamente il Molise in un territorio che intorno adesso è un po' circondata da varie criticità. Pensiamo alla Campania, pensiamo alla Puglia, pensiamo alla Calabria che è relativamente vicina, ma anche al vicino Abruzzo. Pensiamo a tutta l'area medio-adriatica che da almeno un ventennio, come il procuratore della Repubblica di Pescara nel 92 disse, il problema è molto serio. Qualcuno ci deve mettere le mani nel giro di poco tempo perché sennò diventerà ancora più serio. Nessuno ci ha messo le mani e è diventato molto serio. Quindi il Molise si trova un po' al centro di tutte queste problematiche. Per quanto riguarda la criminalità, su che cosa punta? Quali sono le risorse che sfrutta del Molise? Ad esempio il Molise, il settore dell'eolico, è un settore che in Molise è molto avanzato dal punto di vista dell'utilizzo del territorio. Pensate che il Molise ha autorizzato la costruzione di ben 5.000 paleoliche. Una paleolica costa 1.200.000 euro, sono 6 miliardi di euro che qualcuno si appresta, ha portato, porterà in questa regione, che è una regione ricordiamo relativamente piccola. C'è bisogno di vigilanza, in questo noi insistiamo molto su questo punto, la pubblica amministrazione lo deve alla normativa perché lo deve fare per legge, deve fare la propria parte, si deve dotare di uffici antiriciclaggio per il monitoraggio dei soggetti più critici, per costruire delle profilature di rischio sui residenti, in particolare su alcune categorie e deve monitorare il territorio in una maniera sostanziale. La provincia di Campobasso è stata premiata a Lecce per il progetto Happy Your Land, cittadini ed istituzioni nel web 2.0. L'iniziativa finanziata dal Dipartimento della Gioventù, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Agenzia Nazionale Giovane e dall'Unione Provincia Italiana, è risultata tra le migliori otto progetti d'Italia. Continua ad incassare adesioni e consensi il Laboratorio Moda Molise, adesso c'è un nuovo progetto e ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Anche la provincia di Sernia ha aderito al Laboratorio Moda Molise, il progetto promosso dall'Euridit che si propone di rilanciare il settore testile regionale puntando su idee innovative. Il sostegno dell'ente di Via Berta è solo l'ultimo in ordine di tempo. A questa iniziativa già collaborano da un pezzo centri di ricerca, realtà universitarie, enti camerali, consorzi e soprattutto diversi imprenditori. Tra questi c'è Missardi che sta ponendo le basi per creare nuova occupazione partendo da Sernia. È un fatto positivo per la regione, unitamente anche ad altre iniziative che stanno prendendo corpo. Cito in particolare questa perché il progetto imprenditore della Missardi ha aderito anche al nostro progetto e questo per sottolineare come questa iniziativa si muova veramente in piena sintonia con il territorio. Non è un'iniziativa a parte ma appunto è parte integrante di quel percorso che abbiamo fatto. Nel frattempo si continuano a sviluppare idee e progetti nei laboratori didattici. L'obiettivo è quello di dare risposte adeguate alle nuove esigenze del mercato puntando sul back shoring, ossia il rientro delle produzioni in Italia e sulla moda etica, attenta al rispetto dell'ambiente e alla sicurezza dei capi. Andremo a sviluppare questi prototipi imprenditoriali che metteranno al centro il tema della cosiddetta filiera corta che è un tema che si porrà domani per le aziende che si vogliano installare qua in Molise e soprattutto metteremo al centro anche il discorso della realizzazione di collezioni innovative e sostenibili. E su questo c'è la collaborazione molto bella dell'Università di Salerno per quanto riguarda la tintura dei tessuti con prodotti naturali che andremo a sperimentare e a proporre al mercato. Sul fronte delle tinture naturali è destinato a giocare un ruolo di primordine il consorzio di bonifica di Venafro. Il consorzio perché è aderito? Per due temi. Il primo perché abbiamo messo a disposizione un nostro stabile che in questo momento è libero per poterci trasferire il laboratorio che è presso l'Università Facoltà di Farmacia di Salerno proprio per far iniziare la start-up. La seconda perché il progetto è qualificato proprio per la coloritura del tessuto che sarà con colori naturali e quindi vogliamo essere noi formati in maniera tale che ai nostri proprietari e ai nostri consorziati potremmo indicare quali sono gli arbusti da coltivare in funzione del piano di colore che servirà all'industria. Successo di pubblico a Guardia Reggia per l'edizione 2015 di Cantine Divine che si conclude alla mezzanotte di oggi un percorso enogastronomico tra le cantine del paese con il vino. Ovviamente come protagonista noi ne abbiamo parlato con il sindaco Fabio Iuliano. Siamo con il sindaco di Guardia Reggia, Fabio Iuliano. Questa sera, sabato, serata di questi tre giorni, il 6, il 7 e l'8 novembre, dedicati a questa quinta edizione di Cantine Divine, come sta andando? Veramente adesso benissimo, proprio in questo momento, fino alle 5, l'affluenza era così un po' altalenante, nel senso che ci rendiamo conto che pur se il tempo bellissimo, oggi giornata splendida, però la gente lavora. Adesso come potete vedere la gente risponde bene a questo tipo di manifestazioni che comunque fa piacere, portano gente nei nostri piccoli centri. Ecco, un venerdì, un sabato e anche la domenica appunto le cantine saranno aperte e pronti ad accogliere tutti i visitatori, sia i cittadini di Guardia Reggia ma anche chiunque dai paesi di Mitrofi voglia venire a visitarvi. Sì, stasera vi aspettiamo. Dunque una quinta edizione organizzata grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e l'associazione culturale e folcloristica Colucci. Sì, in effetti diciamo così una piccola nota stonata in tutto questo è proprio perché è mancata la Proloco, questi nostri piccoli centri abbiamo un po' di difficoltà a fare aggregazione, i numeri non ci sono, però per fortuna qui a Guardia Reggia c'è anche questa associazione folcloristica che si è messa a disposizione e ha organizzato l'evento, quindi noi siamo contentissimi di come sta andando. Ed è tutto per questa edizione della domenica del telegiornale di Telemulise, grazie a voi per aver preferito la nostra informazione. Arrivederci.